Tino è uno di quelli che vedi camminare per strada sempre con la testa alta. Di chi immagina il progresso e ne vede già i frutti. E grazie a lui se oggi sono un medico e lavoro qui. Tutto quello che dice è profuma di giustizia, di lealtà. Perché ha un cuore grande così. Le sue mani hanno difeso la nostra terra, i nostri parchi naturali. La nostra costiera. E si è battuto per i nostri diritti civili. Per infrastrutture migliori, per servizi più efficienti. Infaticabile. Di quelli che non si fermano mai. Di quelli che la giornata dura 25 ore. So che è diverso. Vede oltre. Ne ha fatto una missione. Perché la campagna lui se la porta dentro. Porterò con me le tue ragioni. Macf fantà. Le tue nazi.